Buongiorno a tutti, intanto buona domenica, visto che siamo in emergenza sanitaria ho pensato di creare dei piccoli video che potete scaricare da Dropbox, unitamente a ogni video metterò anche un piccolo pdf su cui lavorare, oggi studiamo un po' di tecnica a pad, quindi armatevi di pad bacchette e di buona volontà. Partiamo con un piccolo schema di alternanza tra colpi singoli e paradidor che possiamo tranquillamente studiare comodamente a casa, il metronomo che andiamo a selezionare è 70 alla semi minima e lo schema è così, ve lo faccio sentire. Da capo Buongiorno a tutti Bene, portiamo il metronomo un po' più veloce, per esempio a 75, quindi avete potuto vedere che non è molto complesso, abbiamo un'alternanza tra biscrome e quartine di sedicesimi in paradidor, per cui abbiamo questa alternanza di partenza sia con la mano destra che con la mano sinistra in modo equivalente, per cui cercheremo di avere una buona padronanza della tecnica sulle trempe le mani. Qui selezionare un po' più veloce, per cui pescemo. A capo. A capo. A 80. E buon divertimento. One, two, ready, go. A capo. 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 Bene. Lo portiamo a 100. Ovviamente voi lo fate con più gradualità. A capo. trophy. ufficiente. Ehm. Un bel giro. Vedete. Adove 일� moon投adno. Tro stars. Navi supremacy. Per. Tra o vedoticCU. Grazie.